I 19 arresti di oggi dimostrano ancora una volta che la camorra è cambiata, modificata nel suo DNA, un'organizzazione dove le vecchie regole non esistono più, secondiglianesi, leggi Vanella Grassi e casalesi, alleati per la droga. Questa volta però gli uomini del clan casertano non facevano i broker, ma gestivano in prima persona piazze di spaccio e lo facevano a casa loro. Casale, San Cipriano, Villa Literno, inondate di coco e fumo per volere delle cosche, una cosa impensabile fino a qualche anno fa. Durante le operazioni condotte da carabinieri e polizia sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di polvere bianca e 20.000 euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno filmato per settimane queste piazze di spaccio e documentato la loro attività. Un cambio epocale, o meglio generazionale. Gli investigatori, infatti, sono convinti che l'uscita di scena degli storici capi, molti dei quali padri degli arrestati di oggi, abbia dato il via libera all'apertura di piazze di spaccio in posti dove fino a ieri la parola droga era un tabù. Un'operazione che da un lato sottolinea la potenza economica di Vanella Grassi e dall'altro si inserisce a tutto tondo nell'agguato addebbiato a Giuliano, dove nel clan Mallardo era nata una scissione proprio per la volontà di una parte della cosca di non dare la città di stupefacenti. Decisione che costata con ogni probabilità la vita al boss delle palazzine. Grazie. Grazie. Grazie.